Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su un nuovo video con la webcam Comunque l'ultimo Senza magari possibilmente cadere Qua tutte le mie strutture per non essere mai beccato nella vita La porta Ok Ci ho impiegato mezz'ora per riprendere tutti i materiali che avevo perso Non lo potete capire Mille, mille morti, mille, mille morti C'è ancora uno Qui, 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 qui dentro Ecco la vista Ok Così non rischiamo più Allora riprendiamo le spade Le spade alla mano Ho un'accetta, si 3, 4, a posto Questa fortezza È nostra Questa fortezza è nostra perché non ci sono più nemici E se ci sono non Non vivo, come si può dire Ehi però state calmi zombie eh Allora Non lasciamo buttarci giù Magari il feather falling No niente Allora dovremmo tornare giù malamente Tipo Facciamo una cosa Tipo parkour estremo Non è vero Non proprio mai nella vita Parkour estremo Allora Torniamo giù E dato che sono passati solo 5 minuti Ne avrete visti Tipo 2 No Di quando non rischio Anzi potrei fare così Ok intanto dicevo che Dato che non abbiamo fatto niente per adesso Perché la fortezza è nostra Anche se tutte le ceste sembrano Magicamente scomparse Nel null Cioè tutte le ceste ci sono Ma il loro contenuto no Ma Ditemi se vi piace Che faccio questi episodi Magari Registro Tante Tanto tempo Però No 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 È vero Oddio è vero Mi sono perso tutto Quindi Tutte Ok Non disperiamo ragazzi Non disperiamo per niente Allora ci prendiamo Intanto delle ceste Così sappiamo cosa Sappiamo cosa buttare Questa Ok Torniamo su Uh la torta Ok Qua non avevo messo tipo delle fecce Niente Qua non avevo messo niente Uh quello non si rompe Perché casomai sappiamo dove andare Allora ragazzi Io direi Di Continuare Verso Verso Quella parte Che punto siamo qua Se vi voglio dire no C'è il nord No c'è l'est L'est Dove sorge il sole E quindi mare Uh Che sto facendo Ok Allora ragazzi direi di continuare E andare fino Al mare Fino al mare Cerchiamo il mare E appena siamo sul mare Ci costruiamo una piccola barchetta Come abbiamo fatto all'inizio E cerchiamo stavolta di non morire Però come potete vedere Mi do assolutamente un elm Un elm E Perdo I peni Perdo le frecce Perdo la porta Perdo la porta E mi do un elm Così Così avete visto tutti Perché non so ancora come craftarlo Perché mi manca la craft guide Cioè ce l'ho eh Qua guardate che ce l'ho la craft guide Però Mi serve Se non ricordo male Devo mettere Quattro bastoncini Di lato Quattro pezzi di carta Sempre A forma di croce E in mezzo Una crafting table Una crafting table E quindi dovrei fare una craft guide Praticamente Cosa fa questo libro Questo libro Eh sì però se non ho materiali Per costruire la barca Come faccio? Via questo Questo libro Eh eh Ok questo libro Praticamente ci dice come craftare le cose Non sai come fare un elm? Appunto Tu Cioè Che cazzo No Un'altra fortezza No ragazzi Mi abbiamo detto che continuavamo fino al mare Perché questa è una serie di pirati E i pirati non possono stare sulla terra ferma Perché se no Non sopravvivono E infatti quante volte siamo morti Ora se non trovo del mare aperto Cazzo Cazzo Vedo già che si sta chiudendoli No ti prego Ok 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 Calma 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 Basta fare un po' Di Deviate Gira Gira Ok Ora Con calma Con calma Con calma Con calma 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 Questo qua non mi serve tanto Comunque Avete visto che si è dubbio il caso quel blocco Potremmo usarlo come una specie di bug Per crearci blocchi di diamante E farci La cosa Infine Un applauso Un like Ora Metti il like Dai Abbiamo trovato quella gigantesca barca Totalmente senza suono Totalmente senza suono Questo gioco Ok È una barca strana Ok Ragazzi Spero che sia notte Perché voglio dormire Niente Non è notte Facciamo una breccia Una breccia piccola La Per vedere Per vedere come può andare Tutto questo Buongiorno Buongiorno Allora Vediamo un po' come Si può Io mi ricordo Ho una brutta esperienza Di questi posti Quindi Adesso ci vado Con molta più cautela Ed eccoli Eccoli qua Eccoli Allora Basta fare come in calma Ricordiamoci Che se moriamo ora Siamo Totalmente Fregati Ma totalmente Quindi Io potrei fare Ancuna cosa del genere Ok Perfetto Ci siamo Vuol dire che qui ci sono Delle ceste Delle ceste Ora Compriete Creeper Felic Creeper Io me ne vado No Basta E De così Che dovremmo Fermarci Mi ha preso un colpo Mi ha preso un colpo Allora io quello lì Non lo tocco No Ho lasciato tutta la mia roba Lì dentro Ok Allora Ci serve questo La crafting table Le zucche E abbiamo detto che dobbiamo provare Assolutamente Questa Cosa Dei golem Ma è vero che servono Tipo Uno due Tre Quattro e cinque Cinque Quindi scherzato Non possiamo provarlo Come vedrete di nuovo Mi regalo Un storage capsule station E una capsula Che sono le uniche cose Che non so craftare Quindi Eh Sì Magari mi prendo un'accetta Anche Che ne dici E anche le casse Che avevo rubato Ok Allora Ci mettiamo qua Questo qua posso toglierlo In realtà potrei anche dormire qui Allora Ci mettiamo questo Questo qua lo tolgo Questo Questo Qui Lo metto di qua Questo di qua Questo se lo tolgo Mi ammazzo Ok Non mi ammazzo più Questo qui lo tolgo E lo metto qui Poi 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 Prendo tutto Tutto quello che potevo prendere Lo prendo Ok Prendi tutto Prendi Prendi Avido Avido Allora Ci mettiamo l'elmetto Qua Qua Di qui ci mettiamo Tutto Poi andremo a mettere a posto Ok ragazzi Questa parte è un po' Noiosetta Ma dopo questo Mi sa che chiudo L'episodio Verrà un po' più lungo Del normale Ma Non è che mi sono dato La stonework No niente Ok Ecco qui Tutto dentro Tutto E aspetta no E tagliate l'ultima parte Va Poi ci mettiamo Questo E ci servono Dei blocchi Una spada Smite Ottotta Mia Questa qui Le torce I blocchi Le mettiamo Di qua Una Iron pickaxe Una stone axe Golden feather falling Carne Una carne Di riserva Questo Possiamo Lasciarlo Qui E Niente Ok A posto Questo potrei metterlo via Ops Oddio ragazzi Ok era sparito semplicemente Il Il capo della chiesa Ok andiamo qua dentro Tranquilli Perché adesso non c'è più Sono sicuro Chiudiamo qui tranquilli Anche E vediamo cosa c'è qua Pam Metti la sub Protezione 3 Fire aspect Buona sta roba Ragazzi Stiamo diventando Più forti Questa qua Non la prendo Ho un brutto Bruttissimo Però la prendo Dai Vediamo cosa possiamo Possiamo farne Allora Sì La piazzo Qui Se me la piazzavo Sotto i piedi Mi ammazzavo Completamente Ma io nella realtà Mi ammazzavo Ehm Et voilà No 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 Ok Un secondo È quasi finito Ok Tac via Ma è sparito Anche il quadro Con esso Vabbè Questi qui Sempre a portata di Ah no Ho sentito qualcosa Di brutto Dimmi che non sta succedendo Eh eh Cosa volete fare Cosa volete fare Allora Io spero che sia notte Spero che sia notte Vivamente Perché voglio andare A dormire Assolutamente Sono deficiente Sono deficiente Basta fare così Ok Tac 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 Niente Non dormire Prima di Di sera Ah Dimmi che notte Dimmi che notte Prego Vabbè ragazzi Non importa Noi Ci vediamo qui Sempre Lunedì Verso le nove e mezza Cioè io Verso le nove e mezza E Ci bettiamo Nel prossimo gameplay Brutto a tutti ragazzi Ciao